il festival di sanremo 2023 ha chiuso i battenti ed è stato un trionfo quest'anno mediaset ha tentato di organizzare una controprogrammazione efficace alla kermess schierando tutti i programmi di punta non è valso a niente il concorso canoro appiglia tutto quasi tutto il pubblico risentendo pochissimo della concorrenza il demiurgo del festival amadeus nel corso della conferenza stampa di chiusura dell'evento è stato travolto da due sensazioni da un alto una soddisfazione intensa per aver ottenuto nuovamente risultati monster e soprattutto per essersi divertito dall'altro lato ha manifestato forte amarezza per via degli attacchi politici ricevuti parlando addirittura di un suo possibile addio nonostante per contratto dovrà mettere in piedi anche la kermess del 2024 sono l'uomo più felice del mondo mi sento come un bambino in un parco divertimenti senza che la gioia finisca mai sembra un sogno che però è realtà ha esordito evidentemente contento per come se andate le cose in effetti la sua conduzione e il festival polemiche a parte sono stati gestiti senza sbavature la nota dolente sono stati gli attacchi arrivati dalle forze politiche del centrodestra se dovessero mandarmi via che devo fare me ne vado ha ragionato se il mio mandato dovesse finire qui faccio le valigie ma conserverò per tutta la mia vita il ricordo di quattro anni bellissimi quindi ha aggiunto nella vita al di là dei festival dipende tutto da un risultato se si ottengono questi numeri hai una forza se avessi fatto il 15 meno 20 per cento in meno sarei un allenatore esonerabile qualsiasi allenatore è forte finché la squadra vince se la squadra perde anche i più grandi rischiano di essere cacciati ecco perché devo portare sul palco quello che sento mio se si sbaglia bisogna sbagliare con le proprie idee e non con le idee o le imposizioni di qualcun altro iscriviti al nostro canale